Sabato alle 17.30 Pescara a Ponte d'Era. Dilemma play per il neotecnico Biancazzurro Emanuel Cascione. Tre opzioni. Oltre a D'Agasso e a Squizzato c'è anche Salvatore Aloi. Decisione non facile. Nel ruolo di Mezzala illizza anche De Marco, ma per fisicità e struttura potrebbe essere rilanciato Franchini. Non è da escludere l'impiego nel ruolo di interno dello stesso D'Agasso. Sembrerebbe fuori De Giochi Tuniov. Insomma ancora dubbi sulla composizione del reparto nevralgico. A sei partite dall'epilogo Cascione non ha la possibilità di fare esperimenti. In quella zona del campo dovrà battezzare un assetto tipo. Una cosa è certa, l'ex capitano Biancazzurro sta lavorando tantissimo sulla distanza tra i reparti e dunque sull'equilibrio tattico. Un solo successo nelle ultime otto gare. È stato il vero limite di una stagione divenuta presto anonima, addirittura disastrosa nel girone di ritorno. L'obiettivo è frenare l'emorragia di gol subiti, 51 di cui 30 nel girone di ritorno. Nell'idea di Cascione la squadra deve essere più compatta per ripartire negli spazi. In attacco certo il ritorno dal primo minuto di Cuppone. Merola inamovibile. Inamovibile. Squalificato Cangiano. Si contendono la terza maglia della prima linea a Cornero e Meazzi. Sasanelli, che Cascione conosce bene dai tempi del Sassuolo, sarà un'arma da utilizzare in corso d'opera. L'ex Andrea può agire sia da attaccante esterno che da punta centrale. In difesa Pierno in vantaggio su Floriani. A sinistra ha recuperato posizioni l'ex Milani. Nel cuore della difesa, Out Pellacani, giocheranno Brosco e Di Pasquale.